Apocalisse mostruosa, giorno 42. Questa è casa mia. Era la casa sull'albero del mio fratellastro, ma la mia famiglia adottiva se l'è filata il giorno 1. Quindi ora è mia e ci sono solo io, Jack Sullivan. Supereroe d'azione, ragazzo tosto, post-apocalittico, sopravvissuto. Non ho mai paura e... È ora di andare! Ultimamente il mondo è in prada al caos. Zombie e mostri giganteschi hanno invaso la mia città. E forse l'intero pianeta. Saprete già tutti come sono fatti gli zombie, ma per sicurezza. Sguardo vacuo, lamento lugubre e se ti mordono sei uno di loro. Un morto vivente. Ma se ti prendono i mostri, sei morto e basta. Muerto. Fregato. Perché mai sto girando questo videoblog? Beh, primo sono sei settimane che non parlo con esseri viventi. E poi voglio testimoniare le cose assurde che ho fatto. Jack Sullivan, il cacciatore di zombie. L'ammazzamostri. Un ragazzo che ha il tempo di giocare a tutti i videogiochi che vuole. Ma non ci stai neanche provando. Ma non ci stai neanche provando. Ma non ci stai neanche provando. Ma non ci stai neanche provando.